Per un paese come Glemona, che conoscevano come conformazione e come territorio, un pronto soccorso come a scuogna gli essi e a scuogna gli restati. E intorno sempre alle esperienze nostre di Pobrori, noi vivuti, grazie all'assenza dell'ospedale, non perché questo vuoi dire che vuole giovarlo di altri bambini. Si arriva a scuogna, ma grazie anche alla professionalità, si costruiva una rete di medie di base veramente all'avanguardia, chi non ha accettato in giro in altri bambini. E questo secondo me è stato dato anche dalla Santa Scugna, la Santa Scugna si dice in Furlan, e questo non si ha consentito di avere queste eccellenze per cui non vengono i miei disini generali, di base, che sono veramente bravi se a fase di disini dei succedenti che sono veramente buoni dalla mancanza dell'ospedale. La planificazione locale slargiata, se lui avviate il computer al nostro sito del Comune al nostro plan strategico a Medio Friul, diventiamo grosse parti di planificazione che è online, quindi pubblica e integrata tra i 11 comuni del territorio. che è una cosa che esiste da me qui. L'avevamo fatta sulla scorta di un'esperienza che è venuta fuori in altre regioni d'Italia che hanno alcuni risultati, e questo è un procedimento che non vuol dire che la mia planificazione o il mio plan particolare già è quello che abbiamo votato dal Consiglio Comunale di tal mazzone, piuttosto che di più, assolutamente, ma c'è che è un guai a trovare che robe scrivano e i sindici a piadressi il massimo da un po' dei campi sul loro territorio. Allora, se facciamo le scelte, facciamo le forti, diciamo che esiste il macrocomune del Medio Friul, però io non sono i campani. Ogni Comune ha elegito il suo sindico e ogni sindico fa parte del Consiglio, dall'Utile, dall'ambito. Allora, sono 11 consiglieri, a rotazione si elegge il Presidente, che è un primo si interpares, che è un modello che noi stiamo sperimentando già di un po' di anni, e si decide per capo, non per il numero di abitanti, perché è evidente che se io mi dovesse partire il numero di voti che abbiamo fuori dai miei abitanti, se avessi già il 50% dei voti che non sarebbe corretto. Tu riesci a salvaguardare i campani, quindi l'identità che è fondamentale. Abbiamo dato la nostra vera radice da un'identità quarta. Questo è il mio pensiero che voi disintenzioni che studiessi un po' di tutto, e l'identità si sta mantenendo il campanile, aggregando le funzioni, ma di fatto lanciando la figura dal sindico. Abbiamo dato il sindico, abbiamo votato il sindico e l'elezione diretta, che va a rappresentare la comunità da un ambito più grande, che la gente non dà meglio friù, in questo caso può inclamarlo in un'altra maniera, o se non si decide di inclamarlo, e servirà che con un mandato popolare fuori, perché il sindico va a mandare fuori direttamente, noi facciamo le riunioni e noi inviamo come petardo dalle decisioni, tant'è che venga la macchina che è più lenta di noi.